L'Istituto Superiore Agrario di Borgo Palazzo è stato intitolato allo scrittore Mario Rigoni Stern, la cerimonia ufficiale stamattina. L'Istituto Agrario di Borgo Palazzo è stato ufficialmente intitolato allo scrittore Mario Rigoni Stern. Vediamo. L'Istituto Superiore di Agrario è stato ufficialmente intitolato a Mario Rigoni Stern, la cerimonia nell'aula magna della scuola, alla presenza delle autorità locali e del figlio dello scrittore. Di questo sono contento, credo che sia la seconda scuola a prendere questo nome. Mio papà da sempre ha avuto un rapporto particolare con gli studenti. Negli anni, fine anni 60-70, il suo libro Il Sergente della Neve o Il Bosco di Orogalli era un libro scelto come testo nelle scuole medie e innumerevoli sono state le scuole che sono venute su ad Asiago a incontrare mio padre e dopo parlare, parlare di tutto, non di scuola ma di vita soprattutto. Intitolazione della scuola allo scrittore Vicentino i cui valori di insegnamenti bene si intrecciano al senso di comunione con la natura e il territorio. Allora, l'intitolazione tiene conto della importanza che ha avuto dal punto di vista culturale questa figura, sia per ciò che riguarda l'aspetto legato alla sua produzione letteraria, sia per ciò che riguarda l'aspetto legato più propriamente al suo rapporto con la natura, l'ambiente, i costituenti dell'ambiente, quindi le piante, gli animali, il bosco e quant'altro. E credo che questo suo rapporto sia particolarmente significativo per una scuola come la nostra che si occupa appunto di ambiente, territorio e di valorizzazione di questa risorsa naturale.